non cazzo stazione mia la pangola a mamma dove va Ricarico! Oddio mamma, chiudita la porta eh! Si dico occhio, io dico cervello Eh no, cazzo cazzo Ah be, allora è parlo non mi va di giocare più a rainbow poi ci vediamo dopo ciao guarda che c***o che c***o che c***o questa ultimo nemico rimasto resta solo un operatore alleato no c'è la mamma troppo questo è il fratello di william e giammarieto dico io vero qual è deficiente questo l'ha allenato per anni di william oh dio è vero ma se è vero vedi un po' Alex Depolis Antonio Mastromano Mastromano ma cosa si chiama Mastro Antonio Mastromano chi è per là ma che gioco se ne devo andare oh ma sono una partita eh eh ma è finita eh ma è il c***o ma è il c***o ehm giammaria ma è un'altra scuola che forse non so per questa fortuna ma è un'altra scuola ma è un'altra scuola con Dadao con quello che sarebbe Dadao e dico ehm tutto lo ha detto vabbè a parte domani mattina proprio gli ho dato una sparata pure davanti al padre e gli ho dato una sparata pure davanti al padre e che mi dice che mi può fare ti do una sparata a tuo figlio e che mi vuole denunciare e che mi fa morire ma mi madre mi direbbe pure bravo no ricarico un operatore alleato rimasto l'attaccante è stato eliminato andiamo a deposito amo ci venite coglioni e deficienti e lui dopo un cuore così pensiamo meglio non ci vanno sti down se si conoscevi sapeva nella vita tale mamma mia l'ammazzavo da questa partita gioco a fifa che vuoi fare il viaggio coglioni coglioni insomma leghiamo questi mo te giuro me ne va oh casca sermondo io rinforzo qua non me lo vedo nessun motivo oh non mi ha muovo da qua io cosi metto porta sicura ma basta non vedo i droni tenete d'occhio la porta ti pensi che faceva una kill ti pensi che faceva una kill non mi ha messo cosettino eh messo la lancio no 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 cerco bav writers ti hanno scoperto torna indietro ciò rimetti io te lo li ho un po' in bando se rimani in questa zona il nemico ti scoprirà ti hanno visto porca ricarico assiste al ferimento ma è che è cosa ok i fatti contano più delle parole la tua identità è stata compromessa boom bitch ciao che volevo che volevo tipo si l'ho fatto quindi ho perso la vergine tipo ma tu l'hai fatto si una volta con una cosa ma non lo intendevo però se vuole lo facciamo io pensavo che fosse così ho detto no 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 guarda non sono a casa poi sono a casa del mio amico la mamma tra un po' se ne doveva andare se hai facciamo la cosa a tre non è un problema però meglio di no dai mettiamo a disagio lui perché noi ci amiamo alla follità e faremo di tutto gli imbanchiamo a casa sono un po' scuri i muri vedi un po' cinque secondi l'inserimento raggiungete la posizione dei contenitori tutto a merda un bel rilevi tutto ciò che va a batterie rileva il mio cazzo ricarica cocktail da cocktail da moon badim 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 pandora ti porterò al palazzo genio salgerà iscrivervi il mio carro ma non è dolce amaro ma non è dolce resta solo un operatore d'attacco boh morto uno parca l'attaccante è stato eliminato eh le fei oh sto finita parte che sai che sto con sto con quelli che stavano come john maria william no no si è questo regalo da moglie ho fatto il culetto però no però quelli come lui che gli manca una cellula quella dell'intelligenza ti porterò al palazzo assaggerò il mio cazzo cocktail da moon pandora sa dappertutto ti porterò in caserma assaggerò il mio special ciao! cocktail da move va a prendere il telefono e metà faccio sentire o sotto dove vai? no no faccio sentire, scrivi Pandora le leva tutto ciò che va a buttare allora le leva il mio cuore come si chiama? Pandora, normale una boda, aspetta che la rompo eccolo manda avanti 10 secondi no, eccola la che c'è manda avanti 10 secondi un pochino un pochino qua davvero tu stai dappertutto? noi hai sorda che porco scanzione scanzione ma che è il paese pensate al nemico hanno rinunciato ad appropriarsi del corso pensate al nemico a prendere il contenitore di più rischio ultimo attaccante rimasto in vita squadra di attacco eliminata chiunque sei bella oh è l'ultimo round scrivi nei commenti chi sei per favore la prof di religione ha detto a fine anno di insegnare una canzone si chiamerà e si fa quanto vorrei essere una mucca, giocare, il frato e il cuore, tanta cacca che bella prof che hai, dove è che vai a scuola? no è una canzone divertente scrivi nei commenti chi sei chiunque tu stia guardando che cozzalone mamma mia che cozzalone zalone ma come sta? ma come sta? le è piaciuto? dove l'ho portata? quella mmm viva family viva 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 metà viva 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 x dreams non sappiamo dove il contenitore è il mio eschio aprite il fuoco mamma mia a te a me no eh che dichiarazioni che ti fai guarda c'è una mia amica io stavo a stadio lui stavo a stadio dai ti raffarei a nitrociallo oh ritimmalo che non ho capito da fanculo ok e no se ci fai porta pure il bruno ma chi è il bruno ma non lo so a fanculo bruno è tutto collegato aspetta che è l'ultimo round mannaggia a Cristoforo Colombo eh anche quella di prima è grande eh ma ma abbiamo perso e quindi questa è l'ultima vedi che è me ci fai ah la ci avrai la mamma che fai pasticcini all'uva pam ma che ma lo dicono ma non puoi ti ammazzai bana no ti ammazzai me perchè la vita l'ultimo uomo per la squadra alleata 4 a 1 ma andiamo a 4 o 4 oh attenzione 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 coglione perchè va rima l'ho detto non perchè lo è cioè per carità cocktail d'amor quanto vorrei essere una mucca a giocare il frato il fuor d'alta donna andiamo al deposito niente allora c'avete la mamma che fa i pasticcini edito ora 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 che ora che ho re sono mi prendo clash ma l'ho detto per fare lì mamma mia ho tutta la parola avrei nuagli e mannaggia a cristoforo colombo prendilo oh c'è sempre la pistola qua dentro ricordati difendite la stanza se è proprio sto bene allora allora tu vuoi morire oggi la gioconda la gioconda con la la no la gioconda dei francesi con la ma dai ma davvero è finta pensavo fosse vera vabbè sotto c'è qualche problema la cista un medico che è un amico di mio nonno poi ti dico avvicino alla talanieri sta guarda che cura bene e se vai da due attiramenti ti ammazza ha rotto un drone oh 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 che cazzo che sparra oh twitch e tu non devi toccare doc brutto bastardo se tu tasardi a toccare doc io spaccare te cazzo aspetta aspetta che possa uno ma io faccio a the shot se muoio sclero guarda quello ma che c'è guarda si è cagato addosso zitto zitto c'è una vacca qua zitto ah no ecco il ciccione di 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 un datore no che è con l'orgasmo fortissimo no minchia non volevo sorry dove via aspetta fammi di qua zio ma perchè ho capito allora che è venuto a fa il nemico sta difendendo il contenitore di biorischio proteggete il contenitore di biorischio porca troia oh che è venuto a fa allora sta maggiorando viva l'emico si sta impossessando del contenitore intervenite all'istante oh vido ma non sto a mangiare da noi missione fallita che è venuto a due